Sono Pier Vittorio Stefanone, sono un veterinario e anche un appassionato di fauna selvatica. Mi sono occupato di stambecchi, di mufloni e ultimamente anche di lupi. Ho aderito con mia moglie Tiziana, quale socio CAI, al progetto di Wolf Alps EU per il monitoraggio del carnivoro, nella ferma convinzione che sia necessaria una corretta gestione sia per garantire la sopravvivenza della specie nel contesto delle attività antropiche legate all'agricoltura e alla pastorizia.